Partiamo subito con l'appuntamento dell'oroscopo e quindi incontriamo subito il segno della riete. Oggi non sarà una giornata molto allegra, l'imprevisto si occuperà di rendervi la vita difficile. Sul lavoro le cose non andranno come avevate pensato e i rapporti con i colleghi diventeranno tesi. Toro, per voi invece una bella giornata, vi sentirete allegri e in forma, sul lavoro potrete dare il meglio di voi stessi senza timore di esagerare. Se vi capiteranno delle buone occasioni, prendetele al volo. Gemelli, giornata più tranquilla delle precedenti, la vostra, dove potrete recuperare la consueta leggerezza. Sul lavoro vi verranno delle buone intuizioni, seguitele. Nel privato invece avrete voglia di gratificarvi con qualche acquisto fuori programma. Cancro, oggi sarete agitati e nervosi per tutto il giorno, anche se non ci sarà un reale motivo. Sarete troppo apprensivi con chi vi sta vicino, vorrete sapere nei dettagli i programmi dei figli o del partner. Leone, oggi sarà una giornata abbastanza tranquilla in cui potrete concentrarvi sulla normale routine senza troppe distrazioni. Sul lavoro tutto infatti si svolgerà come sempre, i colleghi non vi daranno fastidio e nemmeno il capo. Vergine, riuscirete in tutto quello a cui metterete mano, che si tratti di lavoro o di piacere. Le riunioni andranno meglio del previsto, riuscirete a fare la spesa che avevate in mente. La casa sarà in perfetto ordine. Bilancia, giornata un po' faticosa la vostra. Cercate di fare sempre buon viso a cattivo gioco. Sul lavoro tenete per voi i vostri pensieri, adeguatevi alle decisioni altrui. Ribatterete in un secondo momento. Nel privato ci sarà qualcosa che vi deluderà. Scorpione, avrete una giornata allegra e movimentata, in cui tra impegni di lavoro previsti e imprevisti e vita sociale, il tempo trascorrerà alla velocità della luce. Sagittario, giornata abbastanza tranquilla la vostra, senza particolari novità. Sul lavoro sarete molto concentrati e produttivi. Nel privato un pizzico di pigrizia vi farà restare sempre sul sicuro. Capricorno, è decisamente una buona giornata quella che vi aspetta. Non solo l'umore sarà alto, ma vi sentirete carichi di energie e pronti a buttarvi nelle vostre attività con entusiasmo. Sul lavoro sarete trascinanti e otterrete dei buoni risultati. Acquario, sarete un po' stanchi e affronterete i vari impegni della giornata con fatica. Sul lavoro fate attenzione a non distrarvi troppo prima di cominciare. Nel privato lasciate indietro anche le cose di casa. Pesci, il vostro umore sarà decisamente più allegro rispetto ai giorni scorsi. Sul lavoro le cose si rimetteranno a funzionare e questo vi renderà un po' meno tesi. Nel privato tornerete a comprendervi al volo con le persone vicine e questo renderà il clima decisamente più rilassato. Grazie. 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 Grazie.